Sicuramente la politica estera purtroppo è divenuta centrale, viviamo in un mondo più pericoloso dopo la Russia che è una potenza nucleare calpestando le regole dell'ONU, le convenzioni di Ginevra, 70 anni di pace ci vuole ricacciare dietro di quasi un secolo con una guerra brutale di aggressione senza rispetto a alcuno dei civili nel cuore dell'Europa ma mi sembra che le cose stiano andando bene, il mondo libero l'ONU stesso ha condannato con fermezza questo metodo, è inaccettabile che si possa pensare di risolvere con la forza e con la guerra i conflitti tra gli stati, le controverse vanno affrontate con la pace, con la diplomazia e col dialogo. Per fortuna il popolo ucraino ha dimostrato di essere un popolo di grande valore, una nazione che crede nella libertà e nella democrazia e si sta difendendo con i denti, adesso è incominciato a ricacciare l'invasore e questo speriamo che faccia ragionare i russi e li costringa a sedersi al tavolo di pace, di smettere di lanciare missili contro i civili e riprendere un dialogo come giusto che sia. Parallelamente però non dimentichi i problemi che sono quelli delle nostre terre, le aree interne. Assolutamente è chiaro che il governo nazionale ha come priorità quella di rilanciare l'economia partendo dal lavoro, utilizzare le risorse che ci sono per una tregua sociale, per una tregua fiscale, per far riprendere le infrastrutture soprattutto al sud, per dare nuovo slancio alle imprese, ridurre il costo delle bollette, mi sembra che la finanziaria nonostante un momento difficile troverà risorse importanti per affrontare questa emergenza.